800 anni per un'università che nasceva proprio perché la società fosse voluta attraverso non ai beni materiali ma alla cultura quindi al generare degli esseri umani che potessero migliorare il mondo e che riuscite a proseguire per 800 anni sicuramente non c'è che da essere orgogliosi maestro è successa una cosa inaspettata cosa abbiamo adesso con la cuffia mi metto comoda grazie 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 ragazzi veramente la cultura la conoscenza l'unica cosa che ci può salvare grazie 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 all'università di aver voluto me qua a festeggiare una data così importante grazie 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 mille grazie a tutti grazie